Ciao ragazzi, in questo video sul corso di Arduino partendo da zero, faremo una breve panoramica, una breve descrizione dell'AIDE di Arduino, cioè dell'ambiente di sviluppo con il quale è possibile scrivere il codice, compilarlo e poi trasferire il programma su Arduino. Sul concetto di compilazione e su come si programma Arduino ovviamente torneremo più avanti nei successivi tutorial. In questo ci limitiamo appunto a descrivere l'ambiente di sviluppo. Quando voi avviate il software Arduino si aprirà una schermata come questa. Automaticamente viene aperto un nuovo progetto che in Arduino si chiama Sketch. In questa regione centrale è la zona dove voi dovete scrivere il vostro codice. Qua in alto vi sono invece alcuni menu che comprendono alcune funzionalità. Ora noi le vedremo brevemente alcune, su quelle più importanti poi ovviamente torneremo più avanti negli altri tutorial. Nella sezione File vi è quello che serve per creare un nuovo progetto, aprire un progetto esistente, salvare, oppure modificare le impostazioni del software Arduino. Qui ad esempio potete modificare il percorso della cartella dove vengono salvati gli sketch, oppure la dimensione del font dell'editor, oppure vi sono appunto altre opzioni. Io vi consiglio di spuntare la casella Visualizza i numeri di linea, perché è molto utile secondo me avere qua accanto indicata la linea corrispondente a un certo testo nel vostro codice. Sempre nel menu File, un'altra sezione interessante è quella relativa agli esempi. Quando voi avete scaricato e installato il software sono stati scaricati e installati anche dei codici d'esempio. Dei codici d'esempio su alcune delle funzionalità principali di Arduino, sul funzionamento per esempio dei digitali, degli analogici, oppure dei codici d'esempio molto interessanti relativi alle librerie di default che sono state scaricate con il software. Per esempio qua sono tutti codici di esempio, tutti questi, su come utilizzare l'SD, il moto di servo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora alcune di queste che vedete qui non sono di default, cioè non le troverete probabilmente nella vostra prima installazione, ma sono librerie aggiunte da me successivamente. Bene, nella sezione Modifica invece c'è quello che serve per modificare il vostro testo, quindi le operazioni di copia, taglia, incolla, trova, eccetera. Nel menu Sketch invece è quello che vi serve per verificare la correttezza del codice che avete scritto per compilarlo e per caricare il software su Arduino. Inoltre, un'interessante sezione è quella dell'inclusione librerie, da cui è possibile includere nel vostro progetto una libreria che avete già installato sul vostro PC. Altrimenti da qua potete aggiungere una nuova libreria da file zip o tramite il gestore di librerie, però su questo vi faremo vedere più avanti come si fa. Nel menu Strumenti invece è importante che voi qua, alla voce scheda, avete selezionato la scheda corretta. Noi stiamo lavorando con Arduino Uno e quelli qui dovete selezionare Arduino Genuino Uno. Queste altre sono appunto altri tipi di board disponibili. Come vedete qua c'è una voce, la voce porta, che però in questo momento non è cliccabile. Questo perché non è connesso Arduino al PC. Ora se voi prendete Arduino e lo collegate, e ora ritorniamo su Strumenti, ecco che qui vedete è apparso, accanto alla voce porta, COM6 Arduino. E qui è stata automaticamente selezionata la COM6. Se non fosse stata automaticamente selezionata, come nel mio caso, avreste dovuto appunto qua selezionare la porta seriale corretta per il vostro Arduino. Bene, qua sotto abbiamo invece dei tasti rapidi. Per esempio con questo si verifica e compila il codice, con questo si verifica, compila e si carica direttamente il codice sulla scheda. Con questo tasto è possibile aprire un nuovo progetto, una nuova finestra. Con questo invece si apre un progetto già esistente o un esempio e con quest'altro si salva il progetto attuale. Qua all'altra a destra c'è un altro pulsante che è quello che serve per aprire il monitor seriale. Se voi premete si aprirà un'altra finestra, come questa, che è una finestra molto utile perché è qua dove voi potete vedere i messaggi inviati da Arduino. E' da qui che voi potete vedere scambiarvi dei messaggi via seriale con Arduino molto utili soprattutto nella fase di debug, di verifica del funzionamento del vostro software. Ma comunque appunto torneremo più avanti anche su questo concetto. Bene, un'altra sezione da descrivere è questa qua in basso, nera. Qua è dove appariranno gli eventuali messaggi di errore inviati dal compilatore. Per esempio, se io qua scrivo qualcosa che non ha evidentemente un senso e provo a verificare il mio codice, il compilatore capirà che c'è qualcosa che non va. Ah, prima di poter compilare va salvato il progetto. Salva. Bene, vedete, qui è apparso un errore. Il compilatore non ha ovviamente riconosciuto la cosa che ho scritto. Con questa freccetta che vedete qui si apparirà un piccolo menu con il quale invece è possibile gestire le schede che potete avere aperte qui. Quindi è possibile che qui avviate più file aperti e quindi qui potete rinominarle, eliminarle oppure navigare tra le schede aperte. Bene, per ora è tutto. Nel successivo tutorial parleremo del concetto di compilazione e di come si programma Arduino. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.